Uomini e donne, anticipazioni 14 aprile, Gianni Di Nicole, Roberta Offese in studio. L'appuntamento con uomini e donne è confermato per la giornata del 14 aprile, quando alle 14.45 andrà in onda una nuova puntata su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno dei sospetti nei confronti di Nicole. Dato che la tronista si ritroverà per l'ennesima volta nel mirino di alcune polemiche. Questa volta sarà Gianni Sperti a puntare il dito contro la ragazza, tanto da mettere in dubbio tutto il percorso fatto fino a questo momento in trasmissione. Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne, in programma venerdì 14 aprile su Canale 5. Rivelano che si parlerà di Nicole e dell'evoluzione del suo percorso in studio. Gianni Sperti continuerà a nutrire dei seri dubbi nei confronti della tronista. Ritenendo che secondo lui si sarebbe messa d'accordo con il corteggiatore Andrea. Il sospetto è che dopo la consegna del bigliettino segreto, Nicole possa aver continuato a sentire Andrea anche fuori dallo studio del talk show del pomeriggio di Canale 5. Da qui il dubbio che la tronista starebbe prendendo in giro la redazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, potrebbe aver messo in piedi una messa in scena ai danni della trasmissione. Insomma i sospetti sul conto di Nicole non si placheranno e c'è da scommettere che anche nel corso delle prossime registrazioni si continuerà a parlare di questa vicenda. I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne del 14 aprile rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova accesa lite tra Roberta e Nicole. Le due donne si ritroveranno ai ferri corti e nel corso del confronto Roberta sbotterà dicendo di essere stata offesa da Nicole. Il motivo? Sembrerebbe che la tronista abbia dato della poco di buono alla dama del throne over. Al punto da scatenare un nuovo acceso di verbio in studio. Le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e Donne, che andrà a chiudere la settimana, rivelano che ci sarà spazio anche per un addio che vedrà coinvolti due volti del throne over. Trattasi di Tiziana e Alberto, che dopo aver portato avanti per qualche settimana la loro frequentazione, annunceranno di essere pronti a compiere il grande passo e viversi fuori dallo studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che li ha fatti innamorare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.